Vogliamo vedere un segno, chiedono i farisei, sempre in questo dibattito che c'è nel capitolo 12, vogliamo vedere un segno, ma la domanda è pertinente, è sbagliata, è giusto o no chiedere un segno? Quante volte ci capita? Sembrerebbe in parte di sì, faccio solo un esempio, il Salmo 86 si esprime così, dammi un segno della tua benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, dammi un segno, chiede un segno, perché è sbagliato chiedere dei segni? E poi penso al capitolo 7 del profeta Isaia, quando Isaia si arrabbia col re Akaz perché di fronte all'assedio, al momento di difficoltà, gli dice chiedi un segno e Akaz dice no non voglio tentare Dio, non avete coraggio di chiedere un segno? Ma allora i segni li dobbiamo chiedere o no? Allora certo, sicuramente è escluso un senso di questa frase, voglio vedere un segno, voglio, sembrerebbe quasi, che potremmo tradurlo con pretendo un segno, ecco, pretendere non è possibile, non si può piegare Dio alle nostre aspettative, ai nostri bisogni, alle nostre esigenze, ma più profondamente quello che rende questa domanda ambigua è quando si chiede un segno come prova inconfutabile e che dunque permetta di non dover compiere il salto della fede. Da questo punto di vista noi sappiamo bene anche come nelle relazioni, no? Quante volte anche nell'amore noi diciamo dammi un segno, non c'è nessun segno che ti confermi se non ti fidi, è soltanto nella fiducia, nella fiducia ogni segno diventa promettente, capace di incrementare la fiducia, ma se non è mossa dalla fiducia la richiesta è perduta, dunque bisogna chiedere un segno, ma chiedere nel modo corretto. E poi è interessante la risposta di Gesù, la risposta di Gesù non nega il segno, no? Cioè voi mi chiedete un segno, non vi sarà dato altro segno che non quello di Giona. E qui evidentemente il segno ha a che vedere con l'esperienza della croce. È un segno diverso da quello che vi aspettate, è un segno altro, sorprendente, per certi versi non immediatamente evidente. Lutero diceva la gloria subcontrario, cioè è proprio quello che non ti aspetti che diventa segno, in cui subcontrario si rivela però la potenza di Dio, il suo amore, la sua presenza. Quasi mi verrebbe da dire stiamo attenti a chiedere un segno, perché poi il Signore i segni ce li dà, non sono magari quelli che ci aspettiamo. E la sua misericordia, la sua bontà, la sua tenerezza, il suo amore si rivela subcontrario, anche dentro delle ferite, anche nei nostri dolori.